L'ambiente che ci sostiene e ci aiuta è la quarta forma di carburante nel network marketing in modo che quella scintilla di desiderio trasformata ora nel tuo scopo diventi un falò ardente di entusiasmo e di passione la questione è molto semplice il tempo è limitato le energie anche quindi chiediti quanto l'ambiente e le persone in esso contenute tirano fuori il mio meglio vanno nella mia direzione mi aiutano ad apprendere nuove skills o quanto mi rimproverano mi scoraggiano o mi fanno perdere tempo in base al mio obiettivo potresti trovare la tua risposta anche nel video network marketing l'ambiente che ti sostiene e ti aiuta al canale youtube luciana network cambia mente